In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, oh Signore, mi fai abitare al sicuro. Salmo 4, verso 8. La pace del Signore. La sicurezza viene solo dal Signore. Il mondo è pieno di insidie, ma noi sappiamo che se Dio è con noi, saremo al sicuro. Ecco perché il Salmessa può dichiarare che in pace si coricherà e in pace dormirà, perché è certo che avrà sempre l'aiuto del Signore che lo sosterrà. L'uomo è circondato da mille problemi e da mille preoccupazioni. La vita frenetica lo attanaia e non gli dà tregua neppure nel momento di riposare. Noi sappiamo che Dio è la nostra pace e la nostra tranquillità, il rifugio sicuro nel momento della prova. Se chiediamo a Dio, infatti, di donarci la sua pace, Egli ce la donerà. E allora nessuna preoccupazione potrà assillare i nostri cuori, perché non saremo mai soli. La presenza di Dio nella nostra vita, dunque, da sicurezza, ci conforta, ci libera dalle paure che spesso ci assalgono. Riponiamo in Lui tutta la nostra fiducia. Solo allora potremmo realizzare quello che sentiva il salmista quando diceva che poteva curicarsi in pace, perché la sua fiducia era totale nel Signore. Dio non abbandonerà mai quanti hanno riposto in Lui fiducia. Dio non abbandonerà mai quanti hanno riposto in Lui fiducia.